Il suo concetto di giustizia non è un concetto che oggi si allontana dall'ecologia, perché occorre che ci sia un senso profondo della giustizia perché si rispetti anche la natura, come un dono e un patrimonio dell'intera umanità e soprattutto delle generazioni più giovani, ma anche di quelle più trascurate e delle parti dell'umanità che sono soggette alla deturpazione che viene dai poteri forti e dalle economie che spadroneggiano in tutto il mondo e che fanno dell'etica soltanto del consumo e della ricchezza il loro ideale.